Signore e signori, vi invitiamo a seguire con attenzione questo video sulle procedure e le dotazioni di sicurezza di questo aereo. Ladies and gentlemen, we kindly ask you to pay attention to the following presentation concerning safety procedures and equipment of this aircraft. Il bagaglio a mano deve essere sistemato sotto la poltrona davanti a voi. Unigli allungimenti supranibili. Il bagaglio di mano deve essere preso sotto la sede in fronte di voi o nei morti.